Ciao a tutti, sono Meleidogames, oggi continuiamo con The Sims. Ma se io mando Paolo qua, vediamo cosa fa. Nota qui, vai Paolo. Andiamo un po'. Magari si scopre che siamo una sirena. Dove sta andando dal delfino? Oddio, dai Paolo. Cioè, siamo proprio lì, se non ci vedi sei ciecato, eh. Non ci ha visto, boh. Cioè, sono davanti a tutti, non mi nota nessuno, va bene. Ok, fermati un secondo. Futulare indietro, così sta ferma e non si muove. E a lui lo faccio arrivare lì, vediamo se succede qualcosa oppure no. Qua. Può sapere le fotografie, oddì. Ah, praticamente non mi riconosce, allora. Abiti. Cambia abito. Perché posso avere pure, posso cambiare pure, mi aspetta sirena, forse. Nota qui. Dai, vediamo se cosa... Magari Paolo, non lo so, ma magari non succede niente. Però c'è. Scopri che la tua ragazza è una sirena, ecco. Non possiamo fare niente. Boh, non fa niente. Boh, lui è contento con... Scopri. Futula lì indietro anche qua. Cioè, scopri che è... La tua tipa è una sirena? Niente, a posto, va bene. Dobbiamo farlo diventare anche a lui adesso. Niente, non posso non cacchierare niente. Ora faccio diventare anche a lui. Io ho letto che bisogna andare vicino al vulcano, che li trovi... Boh. Con lui faccio così, con lei ho fatto che... Niente, è vero, vai a casa, perché... Se ti scoprono... Vai qui, ti siedi. Invece Paolo, andiamo. Allora, viaggia. Ma quindi adesso, cioè, fatemi capire... Sono diventata... Una sirena per sempre? Oppure... È solo per un po' di tempo e basta? Questo vorrei sapere. Ok. Allora, deve essere la zona... Nella vulcano... Attività vulcanica. Quindi andiamo qua. Beh, in questo caso, allora, lo facciamo diventare tritone, ecco. La versione maschile della sirena. Allora, questo cos'è? Booster Report. Quando non ci abita nessuno, vero? Ok, perfetto. Ma io? Dove devo andare? Per andare dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare? Non lo so. Allora. Ehm... Mi scusi. Dove che devo andare io per giocare? Oddio. Oddio, guardate. No, vabbè. Tutta la lava che esce fuori, cioè, guardate. No, vabbè. Dov'è? Non lo vedo. Ah, ancora deve andare. Va bene. Sì, però, dov'è che devo andare? Beh, di sicuro lì dentro non c'entro. Cioè, volevo guardare più che altro. Oddio, mamma mia, raga. Va bene. Io scapperei, sinceramente. Boh, io ho letto che qua, ehm... Cioè, diciamo, su questa isoletta del vulcano deve trovare una grotta ed entrarci dentro. Però qua non vedo niente. Ma dov'è che è? Sei fermo? Allora, vediamo. Boh, io non vedo nessuna grotta, però. Aspetta. Esplora, l'ho trovata, raga. Ah, ho trovato la grotta. Vai, vai, vai. Paolo, dove sei? Vai. Cioè, ho letto che si potrebbe trovare e... Insomma, sto frutto può diventare sirena. Insomma, alga, frutto. Ancora ho capito che cacchio. Basta che a lui non gli succede niente di brutto. Ti prego. Io non sarei mai entrato, ok? Aumentiamo il tempo perché vedo che ci vuole un bel pomiso. Che è successo? Mentre attraversava a nuoto i numerosi passaggi pieni d'acqua nella caverna, Paolo nota qualcosa in fondo a una delle pozze meno profonde. Emergendosi per recuperare ciò che ha visto, Paolo riesce a raccogliere un vecchio portafoglio. Sicuro che il portafoglio non sia stato smarrito di decente. Paolo ne intasca il contenuto e prosegue il cammino. Oddio, ho trovato il portafoglio. Sì, perché ho letto che non è che lo trovi subito. Cioè, devi sempre esplorare. Prima o poi troverai. Però secondo me, raga... Cioè, sì, qua per farlo in maniera diversa. Però secondo me fai prima di apprendere i punti di soddisfazione. Qua c'è l'alga sirenica. La prendi se è a posto. Invece di stare lì come una matta a cercare tutte le parti, ecco. Ora Paolo provo a preparare i frullati per il taceo al bar. Può anche correre senza sudare. A tapirola, Paolo ha migliorato la propria resistenza e brucia meno energie. Era bello se facevano vedere dentro la grotta, però. Però già me lo immaginavo che non si vedeva niente. Hai trovato qualcosa? Percorrendo la caverna Elisa, Paolo ha notato un grosso cumulo di detriti e conchie. Senza esitare, ero vista tra la raccolta di oggetti per trovare un ricordo memorabile della propria avventura. Ficca un dolore lancinante e non interrompo la ricerca della mano. Io gli prendo un grosso granchio che aveva fatto nella detriti della propria casa. E' una che la istinge assolutamente un dito. Dopo numerosissimi tentativi e qualche lacrima, Paolo riesce a dire, ok, niente, esplora di nuovo. Cioè dopo 50.000 volte, insomma, troverai. Seguendo la luce, fino all'origine, Paolo scopre un lago degli strani colori, che proietta la luce nei recessi alla caverna. Il blu dell'acqua sfuma verso l'arancione e la rossa ai margini della pozza. Incapacità strassi. A quella vista, Paolo trascorre molto tempo a sfruttare in profondità il lago prima di riuscire finalmente a voltarsi per dirigersi verso l'imboccatura caverna da cui è entrato. Eh, però non ha scoperto niente. Vabbè, va in bagno. Cioè, prima mi rompi le palle. Che vuoi andare in bagno? Esplora un'altra volta. Speriamo di trovarlo. Raga, energia zero. Cioè, rischio di far morire Paolo. Cioè. Allora, devo vedere dov'è. Perché se no, se devo ricercare di nuovo... Eh... Il posto, buonanotte. Niente, sta addormentato, raga. Niente, vai a casa. Poi dopo... Vabbè, comunque, abbiamo capito che... Devi andare ad entrarci tante volte e poi lo troverai. Sì, però... Invece di farlo stancare, sinceramente... Cioè, sinceramente, anche con lui faccio così. Ma che cacchio è, raga? Perché ha fatto così? Avete visto il gioco come ha fatto? Continua... Ma... Vabbè. Hai tutto. Hai la vescica piena, hai sonno. Solo l'igiene e la socialità c'ha. Ok. Niente, Paolo non ce la fa proprio. Niente, vai a dormire, Paolo. Dopo mangi, vai. Niente, ragazzi. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e ciao ciao. Ciao, 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 ciao. Grazie a tutti.